Ben trovati con Dialoghi sulla fede, ben trovati con Dialoghi sulla fede, ben trovato Padre Francesco, prima di iniziare questa puntata che oggi affronterà una delle preghiere che sono il simbolo e l'essenza della cristianità, vi ricordo che potete iscriverci, oltre che sui nostri canali social, anche al numero che vedete in sovraimpressione, potete porci delle domande o anche suggerirci delle tematiche che vi piacerebbe fossero affrontate. Allora oggi invece parliamo del credo, che è una preghiera che indica la volontà e l'essenza del cristiano ad affidarsi completamente a Dio. Che origini ha questa preghiera? Beh, intanto, credo non è che lo ritroviamo in tutte le messe che vengono celebrate. Infatti nella veglia pasquale, nel giorno del battesimo del Signore per esempio, c'è il rinnovamento delle promesse, giusto? No, vabbè, diciamo al di là di poter utilizzare, quindi con il suggerimento di poter utilizzare altre, diciamo, formule o altre preghiere, potremmo dire alternative, di fatto però il credo viene riservato alle domeniche e ai giorni delle solennità. Non lo ritroviamo né nelle feste, né nelle memorie, né nei giorni feriali. Quindi è una formula, una preghiera che noi ritroviamo soltanto in alcune appunto celebrazioni, non la ritroviamo sempre. Dopodiché, appunto, esiste quella formula a cui tu fai riferimento, probabilmente che è quella, diciamo, che normalmente viene utilizzata, è una formula molto antica, ce n'è una ancora più antica di questa, che è il credo apostolico cosiddetto, e poi è più breve e viene raccomandata, per esempio, nel periodo di quaresima, normalmente. Però, diciamo, poi alla fine già è un miracolo, sa, la gente si ricorda quella che normalmente si utilizza, cioè quella standard, diciamo standard. E' quella che viene definita o viene detta credonice costantinopolitano. Perché? Perché nella sostanza è frutto di due concili molto antichi. I concili della Chiesa delle origini, potremmo dire, concili della Chiesa tutta unita. Chiesa di Occidente e Chiesa d'Oriente non esistevano sulla carta, per cui sono i concili della Chiesa intera. Il concilio di Nicea del 325 e il concilio di Costantinopolo del 381. Da questi due concili esce fuori questa formula, questa preghiera, che in un qualche modo pone le basi essenziali, o mette in risalto le basi essenziali, della fede cristiana e che in un qualche modo viene spinta, viene richiesta o esce fuori a causa di una serie di eresie. La più nota di queste è l'eresia ariana. Ario che è un sacerdote di Alessandria, al quale, diciamo, alla fine nega la divinità di Cristo, fondamentalmente. Quindi... Non riconoscendolo come figlio del Signore? Sì, cioè, dice che Dio è soltanto il Padre, sostanzialmente. Cerco di essere molto, anche qui, di essere molto spartano, insomma, di non scendere troppo nei particolari. Dice che Dio è solo il Padre, quindi il figlio dello Spirito non si occupa nemmeno. Il figlio sarà la più sublime delle creature, però è una creatura del Padre. Quindi, ci fu un tempo in cui non c'era, questa è l'espressione, cioè, ha incominciato ad esistere da un certo tempo in poi. Quindi non è eterno come il Padre e non è della stessa sostanza del Padre, cioè non appartiene alla natura divina. Questo dice... Cosa che invece il credo ritenisce. Viene a dire. E quindi, per rispondere a Dario, si convoca un concilio, il primo concilio, tra l'altro... Scusami, questa ipotesi fatta da questo sacerdote Alessandrino ha avuto poi un seguito, diciamo, cioè qualcuno ha seguito questo suo pensiero. No, l'arianesimo non è che muore col concilio di Nicea, continua anche dopo, probabilmente delle frange poi da qualche parte ancora sussistono, ma di fatto, diciamo, i cristiani che allora erano la maggioranza anche nelle zone del Nord Africa, Alessandria sta in Egitto, oggi sono ridotte a Lumicino fondamentalmente, no? Perché sono territori musulmani, quindi per la seconda maggioranza, dove però sussistono anche, diciamo, liturgie molto antiche legate, appunto, ai primi albori della cristianità. Quindi, Ario, diciamo, sostiene questo, di fatto il concilio, anche qua, viene convocato non dal Papa dell'epoca, tra l'altro anche qua siamo in un'epoca ancora in cui le cose sono abbastanza fluide. E anche il primato di Pietro ci vorranno secoli prima che venga definito in maniera inequivocabile. dovremmo aspettare il concilio Vaticano I, quindi stiamo nel, in un'epoca praticamente contemporanea. Questo concilio non viene convocato, appunto, dal Papa di turno o da chissà quale vescovo, viene convocato dall'imperatore. E dice per quale motivo? Ma perché vuole l'imperatore 325. Dopo Cristo, ovviamente. Sì, è chiaro. Questo almeno. Lo ribadiamo che si sa mai. No, perché capitò, questa, questa, quando, negli anni Sessanta, si facevano gli studi approfonditi, no, sulla, sulla, sulla scrittura, diciamo che il concilio Vaticano II di fatto fu anticipato da movimenti di studi patristici, biblici, eccetera, no, quindi di movimenti di approfondimenti, voglio approfondire quelli che sono i fondamenti della fede cristiana, quindi le fonti della fede, a un certo punto viene scoperto all'interno di una grotta a Qumran in Israele, un frammento che poi viene riconosciuto come del Vangelo di Marco e viene datato, in base a Carbonio 14, eccetera, intorno al 50 d.C. Esce fuori qualche giornale che titola, dice, trovato un frammento antichissimo del Vangelo di Marco risalente al 50 d.C. Ecco, premonitore, diciamo, sarebbe stato un Vangelo profetico, visto che siamo in tema. Quindi, grandioso, vabbè, però, quindi, sì, stiamo parlando della storia cristiana che parte da dopo la morte e resurrezione di Cristo, quindi, diciamo, dopo l'anno 30, insomma, meno male, quindi l'anno 50 significa praticamente il giorno dopo la morte di Gesù Cristo, cioè siamo molto vicini, sì, considerando anche che sono epoche in cui scrivere, trovare libri, trovare biblioteche, non è una cosa semplice, è trovare anche gente che sa scrivere e leggere, non è facilissimo. Vabbè, quindi... Si decide di convocare, sono imperatore. Si decide di convocare, perché? Perché in fondo all'imperatore interessa che ci sia pace all'interno dell'impero e anche le questioni religiose, in un'epoca in cui le questioni religiose sono importanti per la convivenza civile, a noi suona un po' strana questa cosa perché ormai siamo abituati alla laicità dello Stato, ma pensate già, si parla di Brexit, La regina è anche capo della chiesa? Sì, non solo, ma tutta la questione dell'Irlanda del Nord, e siamo in Occidente, per non parlare poi della questione degli stati musulmani, dove il potere politico, il potere religioso combaciano, per non parlare di Israele, dove ancora oggi i certi cibi, certe cose, devono essere verificati da una commissione, diciamo, teologica, religiosa, spirituale, devono essere conformi a... quindi non è così strana questa cosa. Allora l'imperatore chiaramente si ritrova dei problemi religiosi, dice, vabbè, sa che c'è? Convochiamo il suo concilio, mettetevi d'accordo, vedete un po' che cosa dovete fare... Ce l'ha scritto questo nella convocazione. Sì, non rompetemi l'anima, cioè questo... Quello era il sottotesto, il nota bene, alla fine. Quindi, questa cosa però serve effettivamente alla chiesa per incominciare a riflettere sul mistero, sui misteri della fede cristiana, in modo particolare su uno dei misteri che rimane per eccellenza il mistero cristiano, cioè il mistero della Trinità, cioè la realtà di Dio, chi è Dio, com'è fatto Dio, no? E quindi di fatto il consiglio cerca, provocato dalle tesi di Ario, di rispondere alla domanda, cioè in questo caso in modo particolare, Gesù Cristo è figlio di Dio, quindi in realtà condivide con Dio la sua natura, oppure è la più sublime delle creature, ma è una creatura di Dio, quindi fa parte... Che sembra similare, ma in realtà c'è una grande differenza tra le due definizioni. Una cosa è dire è increato, una cosa è dire è creato, cioè c'è una, come dire, una frattura netta, perché la parte delle creature, diciamo, condivide con noi la realtà per intero, cioè noi siamo creature di Dio, non siamo sullo stesso piano di Dio, no? Perché Dio ci ha creato, quindi Dio è su un piano, noi su un altro. Poi uno può dire un piano più alto, un piano più basso, ci interessa poco questo discorso, comunque sono due livelli diversi. Noi siamo sul piano delle creature, Dio è sul piano dell'increatura, cioè è quello che genera, ma non è generato. Certo. Ok? Quindi Cristo è sul piano di Dio, quindi condivide il suo livello, o sul piano delle creature, cioè la domanda è questa e bisogna rispondere a questa cosa. Dello Spirito Santo il Consiglio di Nicea non tratta, perché? Perché se già abbiamo problemi con Gesù Cristo a definire se Lui è Dio come il Padre, figurarsi lo Spirito Santo, verrà convocato un secondo concilio a Costantinopole 381 per rispondere a questa domanda, prettamente se lo Spirito Santo debba essere considerato anche questo sul piano di Dio, quindi fa parte del mondo divino, oppure fa parte del mondo umano. E chiaramente il Consiglio di Costantinopole risponderà che lo Spirito fa parte del mondo divino. Quindi, diciamo, tappata la bocca d'ario, almeno da un punto di vista, come dire, tecnico, perché poi in realtà non basta scrivere un decreto per tappare la bocca a uno, no? Chiaramente, di fatto la discussione si sposta appunto sul piano dello Spirito e si arriva al Consiglio di Costantinopole. Quindi quello che noi abbiamo oggi e che noi preghiamo nelle domeniche, nelle solennità, è frutto di questi due concili con una piccola giunta successiva, che è una giunta che crea addirittura, in questo caso invece, la spaccatura o sigilla la spaccatura tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, cioè tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa. Un'aggiunta che viene fatta proprio sulla parte che riguarda lo Spirito, dove il credo, Niceno Costantinopolitano, modificato quello che di fatto noi preghiamo appunto nelle domeniche, nelle solennità, dice che lo Spirito procede dal padre e dal figlio. Così lo recitiamo noi, procede dal padre e dal figlio. In latino dal figlio e dal figlio è figlioque, quindi è una questione nota agli studiosi e teologi come la questione del figlioque e dal figlio, perché quel è dal figlio nel credo Niceno Costantinopolitano, cioè nella versione greca originale del credo, non ci sta dal figlio. E dal figlio fu aggiunto successivamente, lo troviamo per la prima volta in dei sinodi locali, poi presso la corte di Carlo Magno, VIII secolo, eccetera, poi viene assunto di fatto dalla teologia latina, quindi dalla Chiesa romana sostanzialmente in maniera univoca e crea appunto la spaccatura con l'Oriente per questioni molto complesse che vanno spiegate, perché anche qua si fa presto a dire, diceva in fondo, le due teologie sono complementari, bla bla bla, tutto quello che volete voi. No, no, diciamo, poi alla fine si spiega che sono complementari tutto quello che si vuole, però di fatto intanto c'è, come dire, un abuso giuridico, è come se io e te ci mettiamo d'accordo sul rogito di una casa, no? Che ne so, io acquisto una casa da te, firmiamo un contratto, infatti i contratti si firmano pagina per pagina, non so se ti è mai capitato, dopo io arrivo a casa mia e dico, sai che c'è? Ma sta riga non mi piace, sta pagina non mi piace, la caccio e la modifico come voglio, non è che si fa così, cioè se quel credo, se quella formula è frutto di due concili addirittura, della Chiesa intera, poi tu arrivi a casa tua e dici, sai che c'è? La cambio. Sta cosa non mi piace, la cambio, quindi da un punto di vista procedurale, come dire, giuridico già è un abuso. Di quale parte però parliamo? Sempre quella dello Spirito Santo? È un'aggiunta che procede dal padre e dal figlio. È sempre quella? Quella è dal figlio, nella versione concordata non c'è, è una parola aggiunta. Filioco è una parola aggiunta in latino, non c'è in greco. Quindi i latini l'hanno aggiunta in maniera arbitraria rispetto a quello che era stato concordato, quindi c'è un abuso procedurale. Allora, vuoi aggiungere questa parola? Ti metti d'accordo perché quel simbolo era stato concordato dalla Chiesa intera. Perché tu così un giorno... Allora, poi vengono date una serie spiegazione dalla più banale. Eh sì, perché lì si sono messi a cantare il credo e siccome serviva per la metrica c'era un vuoto. Ah, quella di stile, quindi un'aggiunta di stile. Un'aggiunta stilistica, metrica, sonora. E quindi ci ho messo quella roba là. Che questo poi ti farebbe capire anche come scegliamo certi canti, no? Che uno si prende le libertà poetiche e poi dice delle castronerie. Ma, quindi quella è la più banale, a quella più seria che di fatto letta male quell'espressione fa addirittura diventare i latini eretici, quindi difformi rispetto a quello che dovrebbe essere la dottrina sulla Trinità. Ma è complicata la cosa. Non c'è sicuramente questa volontà. Le spiegazioni teologiche sono chiare. Quindi, diciamo, non è che noi diciamo una cosa eretica rispetto agli ortodossi. Però, appunto, alcune cose poi vanno precisate. Ad iniziare dal fatto che quel procedere, cioè il verbo procedere, procede dal padre e dal figlio, sempre lo Spirito Santo, quel procedere traduce impropriamente il verbo greco ekporeuo, che si trova invece, appunto, nella versione originale e che è ripreso dal Vangelo di Giovanni. E la traduzione invece, quale sarebbe? La traduzione corretta del verbo ekporeuo è scaturire. Scaturire. Diciamo, detta anche un po' più in maniera elaborata, procedere come da fonte primaria. Allora, che differenza c'è tra procedere e scaturire? Che il verbo procedere è molto più generico rispetto al verbo scaturire, perché il verbo scaturire fa riferimento alla fonte. A una causa, a un effetto. No, no, a una fonte. Allora, io, diciamo, se io parlo del Tevere, faccio un esempio. Il fiume Tevere, e uso il verbo scaturire, io devo dire che il fiume Tevere scaturisce da qualche parte sull'Appennino e arriva, quindi sfocia, nella zona di fiumecino Ostia. Questo è perché io prendo i due estremi. Se io uso il verbo procedere, posso utilizzare qualsiasi pezzo del Tevere e dire... Del suo percorso, diciamo. Del suo percorso, e dire che procede dal Terminillo, non so dove, dall'Appennino fino a Ostia, procede da Roma fino a Ostia, procede da, che ne so, da un altro paese che lo attraversa fino alla sua foce. Quindi quel procedere è molto più generico rispetto al verbo scaturire. Allora... Perché lo delimita di più in zona. No, lo ha... gli permette, cioè il procedere permette al verbo scaturire... No, il che devo scaturire. Scaturire lo limita. Allora, se io devo dire qual è la fonte dello Spirito? La fonte dello Spirito è una, cioè è dal padre, è il padre la fonte primaria dello Spirito, attraverso il figlio. E ci ritroviamo. E attraverso il figlio. Se io invece uso il verbo procedere, posso dire che la fonte... È un passaggio. La fonte è il padre, cioè lo Spirito procede dal padre e anche dal figlio, perché la formula greca è lo Spirito procede, cioè scaturisce dal padre e per mezzo del figlio arriva lo Spirito Santo. Quindi c'è una strada unica possibile. Passa dal padre, attraversa il figlio e arriva lo Spirito. Se io dico che lo Spirito procede dal padre e dal figlio, dico come viene generato, come viene prodotto, lo generato è improprio, come viene prodotto, perché poi si usa il termine spirale, come viene prodotto lo Spirito? Dice viene prodotto o dal padre, che decide di produrlo, perché c'è una via, quindi padre e spirito, o dal figlio che decide di produrlo. E quindi lo Spirito si produce o se lo decide il padre o se lo decide il figlio. E' come se io avessi una vasca con due rubinetti. Dice come si riempie la vasca? Se io riempro tutti i due rubinetti, la vasca si riempie prima, ma si riempie. Se io apro il rubinetto A, la vasca si riempie con un po' più di ritardo, ma si riempie. Se io apro la B e chiudo la A, anche lì è la stessa cosa. Quindi comunque si produce lo Spirito. Questa cosa, di fatto, viene a spaccare la Trinità. Diventa eretica perché spacca la Trinità. E' come se il padre e il figlio possano agire nel produrre lo Spirito, ognuno per cavoli suoi. Quindi indipendentemente fra loro. Cioè in maniera indipendente fra loro. Questa cosa non è possibile. Cioè la Trinità rimane unita nel momento in cui tutto all'interno della Trinità viene fatto in comune, viene concordato in comune. Infatti i latini dovranno poi, per spiegare quella formula, dire sì io la formula la uso, ma il padre e il figlio, diciamo, producono, spirano lo Spirito agendo di intento, agendo insieme. Quindi non è possibile aprire un solo rubinetto, le devono aprire tutte e due. Questa cosa non è necessaria definirla invece nella teologia greca ortodossa, perché nella teologia greca ortodossa c'è un ordine preciso per cui la Trinità agisce. Che poi è la differenza tra la fede, diciamo, ortodossa e la nostra? Questa differenza? Sì, diciamo, sono due modi di vedere che appunto non sono antitetici fra di loro, sono complementari, perché ora ti spiego che anche quell'ortodossa c'è un problema. Perché? Perché quella ortodossa dice che nella Trinità tutto procede per ordine. Quest'ordine viene chiamato taxis, non è tassi, taxis è l'ordine in greco. Tutto scaturisce dal padre, cioè la fonte primaria, quello che dà l'impulso, l'input è il padre, di a per mezzo del figlio, e dal padre, di a per mezzo del figlio, en nello Spirito Santo. Cioè c'è una via obbligata, una via obbligata, una via obbligata che parte dal padre, come se fosse lui il generale, e il tenente è lo Spirito Santo. Siamo nell'ordine del... Gerarchico, in qualche maniera. Si crea una sorta di ordine gerarchico. E questo è il difetto della visione. Perché nella... in questa visione, appunto, è facile pensare che ci sia un ordine di importanza, per cui il padre... Che penalizza il resto della scala. Per cui il padre, il più importante, il figlio, e meno lo Spirito Santo, è l'ultima ruota del carro, sempre del piano divino, tutto quello che non tu, però, diciamo, alla fine... È manovalanza. Sì, quindi c'è una subordinazione del figlio al padre, dello Spirito Santo al padre e al figlio. Questo subordinazionismo è un altro dei rischi della visione su Dio, quindi la visione trinitaria, e in fondo il subordinazionismo portato all'estrema e conseguente produce l'arianesimo. Perché Ario che cosa dice? Che il figlio è talmente subordinato al padre, che con il padre non condivide più nemmeno la natura divina. Ah, ecco. E questo è l'aspetto che viene ripreso dalla Chiesa Ortodossa? No, no, la Chiesa Ortodossa non ha fatto cenno. La Chiesa Ortodossa non... Allora, nella Chiesa Ortodossa la visione è questa, che poi è la visione di origine. Tutto procede dal padre per mezzo del figlio nello Spirito. Tutte e tre sono Dio, cioè condividono la natura divina. Però nel leggere questa espressione, noi che siamo abituati a chi comanda qua, a chi devo fare riferimento, allora è facile vedere una subordinazione del figlio al padre e dello Spirito Santo al padre e al figlio. Quindi sono subordinati. E quindi non vedi, diciamo, la, come dire, la condivisione di ruoli, di importanza, no? Vedi una sorta di scala gerarchica. Questa sorta di scala gerarchica portata alle estreme conseguenze rischia di spaccare la Trinità, cosa che succede con Ario, poi con quelli che combattono lo Spirito Santo, che porteranno al concilio di Costantinopoli. A 381 si chiamano pneumatonomichi, combattitori, guerrieri dello Spirito, contro lo Spirito. Cioè quelli che combattono la divinità dello Spirito Santo. Quindi praticamente... Ci sono estinti? Diciamo di sì, vabbè. Poi alla fine non so a quanto interessano queste cose, però di fatto è giusto per dire che dietro a quella professione di fede c'è, ci sono una marea di questioni e che hanno portato anche a lotte interne agli stati, a scontri, a scontri, e hanno portato poi comunque a delle riflessioni profonde sul significato della fede cristiana. Cioè non è una cosa che noi recitiamo come se la sappiamo, come chissà che cosa. In realtà dietro c'è un significato profondo, un senso profondo al quale noi dovremmo prestare un po' di attenzione. Stavo dicendo, quindi, Ario che dice il figlio è talmente subordinato al padre che non fa parte nemmeno della realtà divina. Per cui se tu scrivi in scala... E che cosa riconosce al figlio? Se non è una realtà divina, niente. È una creatura, una delle più sublimi, una che ha... Non riconosce il fatto neanche che sia stato mandato dal padre? Ma sì, poi anche, diciamo, non si finisce, anche perché non è che poi abbiamo, chissà, quale scritti diario per andare a approfondire. Cioè, in realtà, molto dell'Arianesimo lo conosciamo per via traversa, cioè per il fatto che è stato combattuto. E anche là, questo è uno dei limiti perché non è detto che Ario abbia detto effettivamente certe cose. Bisogna vedere anche... Ah, poi è stata calcata un po' la mano su questa teoria. Bisogna vedere come le recepite, perché poi il concilio, o i concili, normalmente questi domandici, poi finiscono per dire, se qualcuno dicesse, se qualcuno dicesse, anatema sito, finisce, sia anatema, sia scomunicato. Cioè, se qualcuno dicesse, tu immagini che se qualcuno dicesse, qualcuno che l'ha detto davvero, ma non è detto che qualcuno abbia detto effettivamente così, magari l'hai ricevuto così. È un'ipotesi, esatto. C'è un'interpretativa. Anche perché lì non c'è Google, non c'è cosa, non c'è comunicazione stretta. Tu alla fine ti ritrovi con qualcuno che riporta frasi, espressioni. Che però non sappiamo se effettivamente sono state quelle. Io ti devo interrompere perché il nostro tempo a disposizione è finito. Per questa prima puntata abbiamo dedicato alla nostra professione di fede. Grazie per tutte queste nozioni, molte delle quali sconosciute, penso anche a chi ci ha ascoltato da casa. Quindi grazie. Prego. Grazie a voi che ci avete seguito e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.